Il porto di Napoli è aperto, ci sono interlocuzioni a vari livelli, quindi noi siamo pronti ad ospitare donne e uomini che rischiano di morire in mezzo al mare. Quindi questo abbiamo detto qualche giorno fa, questo diciamo adesso e questo diremo sempre fino a quando ci saranno governi disumani e che agiscono in maniera antigiuridica, perché lasciare persone in mezzo al mare con rischio di morte è un atto disumano, è un atto che va in violazione delle regole generali del diritto internazionale e del diritto alla navigazione. Napoli non sarà mai complice di crimini contro l'umanità, semmai saremo testimoni quando un giorno finalmente si processeranno nei tribunali le persone responsabili di questi atti indegni e criminali e molti di questi sono governanti non solo del nostro paese ma anche di altri governi occidentali.